Siamo sempre al palazzetto dello sport di Casa Giove per quest'altra esterna di Punto Cinque, questo nostro viaggio itinerante, ogni settimana andiamo a trovare uno dei club partner di Punto Cinque, il Cus Casetta sta facendo benissimo in questo inizio di campionato, davvero forse delle squadre sorprese, anche se il tecnico Guido Ventimiglia l'aveva detto, attenzione al mio Cus, inizio del campionato è stato buon profeta. I risultati, la Serie C1 l'ultima giornata, Erno Cicciano 6-2 Napoli-Arpino-Pomigliano 2-5, poi Cus Avellino-Miseria-Nobiltà 2-4, Scaffati parete 3-3, Cavianese-Feldi 4-4, Sant'Erasmo-Malevento 2-4, Marigliano-Solofra 3-5, Trilem-Caserta-Cus 5-8 in classifica, l'Alma leader a 20 punti parete 18, Scaffati-Caserta-15, Solofra-Eboli 14, Malevento-12, Misale-Nobiltà-Trilem 10, Cavianese-Avellino 9, Pomigliano 8, Cicciano 7, Arpino-Napoli 6, con Sant'Erasmo e con il Marigliano. Allora Nico, partiamo ovviamente alle zone in alta classifica e partiamo dalla leadership solitaria dell'Alma Salerno. L'Alma Salerno che si è portata solitaria in testa alla classifica in virtù del pareggio del parete sul campo dello Scaffati. A proposito del pareggio tra Scaffati e Parete, tantissimi pareggi proprio nei big match perché nella scorsa giornata c'era stato il pareggio tra Cuscaserta e Scaffati, nella sesta giornata quello tra Alma Salerno e Parete e Trilem e Scaffati e alla quinta giornata pareggio tra Cuscaserta e Alma Salerno. Quindi quasi tutti i big match fino a questo momento sono terminati in parità. Dicevamo dell'Alma Salerno che resta l'unica imbattuta proprio insieme al parete, miglior difesa del campionato con 11 reti subiti, miglior difesa fuori casa. Vieni un po' più qua, adesso vieni meglio. Miglior difesa fuori casa con quattro gol subiti in altrettante partite, miglior differenza reti fuori casa dicevamo e la settimana scorsa avevamo parlato di Di Giacomo che a dispetto dei 13 gol dell'anno scorso quest'anno ne ha già segnati 11 ma c'è un altro giocatore che va citato in tal senso ovvero Peppe Mele che lo scorso anno con la passata stagione alle sue caratteristiche. Pareggio tra Scafati e Parete, Parete dicevamo l'unica imbattuta insieme all'Alma Salerno ha pareggiato le ultime due partite fuori casa proprio con l'Alma Salerno e lo Scafati quindi un'imbattibilità che assume ancora maggior valore in virtù delle delle avversarie che ha affrontato il Parete. Scusa Minico ti interrompo prima che c'è questa polemica che ho letto che è riportato con questi presunti bu razzisti però a quanto pare ci sono stati perché il tecnico Sanzone poi li ha condannati. Che è successo? Sì in pratica il copresidente del Parete Alessandro Mariniello ha denunciato questi bu razzisti all'indirizzo di Mark Assemian giocatore di colore del parete è arrivata la risposta di Filippo Sanzone che in pratica non ha negato questi questi bu razzisti anche se ha lamentato il fatto che Assemian forse durante quella partita fosse un po' troppo cascatore. Queste sono state due cose che non c'entrano nulla Assemian sicuramente non deve fare il cascatore se così fosse però certamente non sono cose che vanno messe in paragone a questo proposito lasciami dire che se c'è qualche cretino perché poi alla fine sì magari saranno state uno due spero persone che abbiano fatto queste cose ecco io dico sempre che basta l'intervento di un dirigente ci vuole poco uno che sugli spalti li prende a calci nel sedere e li sperisca fuori dal palazzetto lo sport e finisce qua non è che ci vuole chissà che cosa quando si assistono a queste cose. Se li lasciamo fare poi è normale che poi bisogna scusarsi perché purtroppo è la l'imbecillità regna sovrana non solo nei campi di calcio ma anche nei campi di calcio a cinque volte quindi basta un bel calcio del sedere fuori dal palazzetto lo sport e non li fate più entrare. Vai Nico. Calcio del sedere figurato anche perché sì sì ovviamente altrimenti inneggiamo alla violenza scherzi a parte diciamo di questo pareggio tra Scafati e Parete alle loro spalle quindi guadagnano terreno il Solofra che ha spugnato Marigliano seconda vittoria consecutiva e la Feld invece non riesce ad approfittarne andando a pareggiare sul campo della Caivanese Feld che è l'unica squadra del campionato con quattro vittorie su quattro tra le Muramiche mentre proprio insieme alla Caivanese l'unica squadra che non ha ancora vinto fuori casa anche se pareggiare a Caivano insomma è un risultato positivo. A quota quindici insieme allo Scafati c'è il Cus Caserta. Cus Caserta che dopo i due punti nelle precedenti scusate nelle precedenti tre partite con il tecnico Ventimiglia che aveva lamentato un po' di sterilità in fase offensiva sterilità quanto a realizzazioni perché le azioni prodotte erano tante. Cus Caserta che ha vinto fuori casa contro la Trilem mettendo a segno otto reti e quindi gran colpo e eh tendenza alle poche reti segnate assolutamente invertita in questa partita. Sai che facciamo Nico? Noi ci andiamo a sentire proprio le parole della tecnico eh Ventimiglia ovviamente eh una Cus Caserta che sta facendo benissimo l'ultima vittoria sul campo del eh Casamatore straordinaria sentiamo proprio come è nato questo progetto eh come è stato riformulato quest'anno dopo eh la parentesi in serie C2 però un allenatore che ha le idee chiare anche con tante iniziative eh particolari legate al calcio al cinque. Andiamo a sentire Guido Ventimiglia. Eccoci qui al Palasport di Casa Giove punto cinque casa Cus Caserta e siamo con il padrone di casa mister Guido Ventimiglia artefice di questo straordinario inizio di stagione del Cus Caserta. Mister partiamo da lontano eh in estate la la tua parentesi insieme a Birindelli ex terzino della Juventus, dell'Empoli anche della nazionale eh italiana. Eh ecco cosa hai portato nel calcio a cinque dopo dopo questa esperienza? Per la verità è più lui che ha portato qualcosa nel calcio a undici nel senso che sia io che Umberto siamo stati lì qualche giorno perché crediamo nell'integrazione di alcuni movimenti di rotazione nel calcio a undici come fanno tanti allenatori di serie A come Montella, Benitez e anche in Europa il Bayern Monaco e il Barcellona per cui dato che Umberto aveva lavorato con Birindelli in passato insomma gli sono piaciute alcune rotazioni che io faccio con il Cus e abbiamo cominciato a collaborare insomma però ripeto dal calcio a undici al calcio a cinque credo si possa integrare nulla. Il contrario sì. Ecco nel precampionato hai parlato del tuo Cus Caserta come una delle possibili sorprese andando andando un po' in controtendenza rispetto a quella che è la diciamo la la tendenza appunto degli allenatori a eh nascondersi. Questo inizio di campionato sta confermando le tue aspettative eh ti aspettavi addirittura qualcosina in più per i troppi errori sotto porta o addirittura sia andati oltre. Allora io conosco i miei giocatori cosa che chiaramente le altre società non conoscono. Io so di avere un gruppo di ragazzi valido che lavora soprattutto che ha fiducia in me e nel lavoro nuovo che stiamo facendo che noi quest'anno abbiamo cominciato un lavoro completamente diverso dal dal solito praticamente solo palla eh anche nel pre partita noi lavoriamo sempre solo con la palla per cui è normale che se un giocatore non ha fiducia in te dopo un po' ti rema contro e le cose vanno male invece loro devo dire la verità sin dal primo momento si sono messi totalmente a disposizione e i frutti e i frutti si vedono insomma stiamo facendo qualcosa di innovativo speriamo che duri nel tempo ma ne siamo certi e comunque io lo dico sempre insomma io credo in questa squadra perché credo in loro se non sapessi di avere giocatori validi ovviamente non mi sarei esposto così. Ecco un progetto solido eh una rosa dall'età media forse eh tra le più basse del campionato se non la più bassa del campionato ecco quali possono essere le prospettive future per il Cuscaserta? Le prospettive future sono quest'anno di fare un campionato tranquillo insomma eh io credo che ehm lo statura della squadra ci consenta di poter arrivare ai margini dei playoff insomma nella famosa zona bianca che va in vacanza prima. Poi è normale bisogna vedere strada facendo perché a dicembre cambieranno molti roster in più bisogna vedere infortuni squalifiche insomma ci sono tante tanti punti interrogativi che possono modificare il corso di un campionato insomma. È possibile pensare ad un salto di categoria nel giro di due tre anni? Se i giocatori rimangono questi sì perché io sono tutti ragazzi di venti, ventuno, sedici, già sette insomma quindi è normale che quest'anno molti di loro avranno le luci della ribalta quindi sicuramente l'anno prossimo ci saranno delle squadre che già Silvio Daniello quest'anno se non fosse stato per il diploma sarebbe andato col Napoli calcio a 5 col sala per cui è normale che se i giocatori rimangono questi io credo che nell'arco di due tre anni possiamo essere competitivi sicuramente però se non dovessero rimanere questi io sono abituato a lavorare con giovani questi vengono molti dal mio settore giovanile ne prendiamo altri e cresciamo loro insomma non è un problema eccoci tornati dal palazzetto dello sport di casa giove per questo speciale dedicato al Cus Caserta allora Nico avevi accennato al discorso del solo fra bene che cosa è successo sperando che non si colpiscano come ogni settimana una pallonata la prenderemo di sicuro come sempre dicevamo la storia che ha coinvolto praticamente nella dopogara pare Nenè con il giocatore Fabio Pepe e con questi due calcettisti del del solofra il il sito ufficiale del solofra parla di Giordano e Roscinio come due calcettisti aggrediti praticamente negli spogliatoi per i quali sono stati sotto i quali sono stati sottoposti all'esame tac per il pivot trauma cranico con tre punti di sutura e Roscinio trauma fracciale e con mandibola sinistra praticamente questo è quello che ha riportato il sito ufficiale solofra futsal punto it poi ovviamente ci sono state le due risposte dei giocatori del solofra quella di Nenè che dice del chiedo scusa del Marigliano quella di Nenè che dice di non essere un terrorista dice che non può accettare di essere stato etichettato in questo modo che lui non ha aggredito da solo i due giocatori che stavano spogliatoio c'è stata soltanto una spinta hanno fatto una mezza tragedia ha parlato di telecamere presenti qua bisogna fare anche una piccola e importante precisazione insomma comunque ha detto che ha chiesto scusa però non ha accettato che sia stato etichettato come quasi come un criminale poi Nico tu hai raccolto la testimonianza di Fabio Pepe che ha detto la testimonianza di Fabio Pepe diversa da quella di Nenè perché in pratica ha confermato quella che è stata la versione del Solofra riguardo riguardo al suo caso riguardo al suo caso e limitandosi a chiedere scusa a tutti al Solofra ai al calcettista Roscigno e al tecnico Iannone e insomma non ha non ha assolutamente negato quello che ha riguardato la sua situazione e quindi questo è importante chiarirlo è importante chiarire anche un ulteriore cosa ovviamente non è che siamo Sky ma neanche Sky ha le telecamere negli spogliatoi per poter immaginare cosa sia successo sta di fatto che l'episodio incriminato in campo lo abbiamo visto dalle immagini in cui Nenè si allaccia le scarpe e il Solofra segna il Solofra non ha alcuna responsabilità perché Nenè si abbassa per allacciarsi le scarpe nel momento in cui il Solofra abbatte il fallo laterale non chiede alcuna sospensione all'arbitro quindi non c'è alcuna irregolarità sotto questo aspetto nel gol del Solofra e questo bisogna dirlo Nenè ha sbagliato in campo anche a reagire in quel modo ripetiamo non sappiamo cosa è successo negli spogliatoi sta di fatto che il gol almeno per quanto ci riguarda le immagini ci dicono che il gol del Solofra è assolutamente regolare perché nel momento in cui Nenè si abbassa per allacciarsi le scarpe il Solofra abbatte immediatamente il fallo laterale quindi non c'è in alcun modo un modo per sospendere la partita in quel caso è stato un errore di Nenè in quel momento di valutazione doveva alzare la mano magari e chiedere all'arbitro di sospendere temporaneamente la gara sta di fatto ripetiamo che noi restiamo a disposizione di tutti i momenti in cui le società vogliono chiarire il Solofra forse con noi non vuol parlare per un piccolo equivoco diciamo così equivoco nato con il suo addetto stampa però noi diciamo sempre quello che pensiamo ed è giusto che sia così sta di fatto che il collega Davide Ferrante al termine della partita correttamente è andato dalle due società sia dal Marigliano sia dal Solofra a chiedere di esporsi pubblicamente per raccontare la loro versione dei fatti non l'ha voluto fare soltanto nessuno l'ha voluto fare soltanto il presidente De Piano a telecamere spente ha detto al collega Davide Ferrante io ritiro la squadra del campionato non è possibile andare avanti così vediamo cosa succede cosa accadrà al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali questo è quello che vi dovevamo sempre per essere corretti nella informazione passiamo avanti andiamo avanti solo fra Vito la partita sul campo che cosa è successo nelle altre sfide si dicevamo a ridosso della zona playoff balzo in avanti del maleventum che vince sul campo del Santerasmo quindi vince su un campo in erba quello che era stato un po' il limite della squadra di Corino centrando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite guadagna terreno anche il miseria e nobiltà la seconda vittoria consecutiva alla prima vittoria in trasferta annunciati anche colpi di mercato per cui sembra che il peggio sia alle spalle per la squadra guidata da Massimo D'Angelo invece a pari punti con il miseria e nobiltà c'è la Trilem Trilem in difficoltà che non vince da tre partite ha ottenuto soltanto quattro punti in casa ricordiamo l'ultima sconfitta contro il Cusca Serta seconda peggior difesa del campionato con 43 gol al passivo proprio come il maleventum e quindi qualcosa da rivedere anche qui stessa situazione più o meno per il scusami c'è anche da precisare lo ripetiamo anche attraverso le tre camini punto 5 perché abbiamo raccolto la dichiarazione al termine della gara in cui anche in questo caso può capitare una differente interpretazione delle parole si pensava che la Trilem volesse tornare sul mercato da subito quanto pare ma anche un qualche taglio invece eh Martino Gregorio il team manager ha chiarito ha detto che ci sarà semplicemente un chiarimento forte all'interno del gruppo e basta e poi dopo eh sperando di dare ovviamente la scossa necessaria dopo che la Trilem sembrava che si fosse risollevata dal periodo iniziale non tanto ovviamente ripiombata invece un altro momento no però ci sono c'è la qualità per riemergere Nico. Esattamente dicevamo del Cusavellino a quota nove Cusavellino che è incappato nella seconda sconfitta consecutiva la prima stagionale in casa Cusavellino che sta un po' deludendo in quest'inizio di stagione ma il di Gilanzetta eh ha chiarito qualsiasi dubbio si potesse sollevare sulla posizione di Oliva ha detto che non è assolutamente in discussione. A pari punti con il team Irpino c'è la Caivanese di Nicolo Refice Caivanese con nove punti di cui otto in casa e uno in trasferta dicevamo poco prima parlando della Feldi che Feldi e Caivanese sono le uniche due squadre ancora a secco di vittoria lontane lontano dalle muramiche. Pomigliano a quota otto che torna a vincere in campionato vittoria che mancava addirittura dalla prima giornata quindi una una mancanza all'appuntamento con la vittoria che mancava da sei turni Pomigliano che vince per la prima volta in trasferta e che però avrà un calendario piuttosto duro perché nelle prossime quattro partite incontrerà Scafati Caserta Parete e Trilem Cicciano seconda scusami a proposito di Pomigliano eh lasciami ricordare anche le dichiarazioni del Napoli Arpino che forse ha disputato una delle peggiori partite io ero sono stato io al campo quindi non mi è piaciuto il Napoli Arpino rispetto altre volte il team Dizzo ha mostrato anche un buon calcio cinque questa volta invece la squadra mi è persa piuttosto fiacca molto disorientata non rispondeva eh quasi in campo alle direttive dell'allenatore è stato di fatto che l'anteri il capitano ha anche accusato un po' la squadra di scarso impegno ha detto che se si continua così mandiamo in campo i ragazzi della Juniors perché non non va bene e poi il sorriso smagliante invece il presidente del Pomigliano eh Mauriello che eh ha ritrovato il cuore del suo gruppo eh quello che secondo lui era mancato e eh se dopo anche una strigliata invece nello spogliatoio una settimana precedente sembra che il Pomigliano eh abbia invece invertito la rotta poi eh non so se l'hai detto prima eh casomai mi correggi se sbaglio anche eh il Sant'Erasmo eh sul per quanto riguarda il discorso allenatore perché pare che sia andato romito in panchina eh qua è un po' clamoroso eh il doppio cambio del tecnico perché prima va via De Pascale poi va via Giannucci dopo due turni adesso è andato dopo tre turni adesso è andato romito in panchina però pare ci sia Di Lella eh pronto a fare l'allenatore per il Sant'Erasmo. Sì eh la soluzione romito è chiaramente una soluzione temporanea la pista più calda resta quella di Gianluca Di Lella che già lo scorso anno dopo l'addio di Gerardo Lieto era stato un po' l'allenatore giocatore della squadra eh prima di tornare al Sant'Erasmo dicevamo del Cicciano seconda sconfitta di fila conserva il miglior attacco con trentanove reti ma anche la peggior difesa con cinquantadue gol al passivo un Cicciano che comunque è parso ritrovato ha messo in difficoltà l'Alma Salerno segnando i primi gol subiti dall'Alma Salerno nei primi tempi quindi questa è una statistica che la dice lunga sulla buona prestazione di un Cicciano che è durato un tempo e mezzo sul campo Anche l'Alma Salerno interrompe un record così come la Roma così siamo tutti più tranquilli ecco scherziamo ovviamente il terzetto in coda alla classifica è già parlato del Napoli Arpino Sant'Erasmo con zero punti in casa e l'unica ancora con zero punti e zero vittorie tra le Muramiche anche se Sorbo continua la sua marcia in testa alla classifica dei capocannonieri a coda 15 e il Mariano di cui abbiamo già parlato per quanto riguarda il post partita Mariano che dal punto di vista sportivo ha interrotto una miniserie positiva di due vittorie consecutive che ha il peggior attacco con 18 reti all'attivo peggior attacco anche in casa con solo 9 reti segnate Sant'Erasmo c'era anche la polemica di Romito su Facebook che abbiamo riportato però lì ovviamente già la trovate su punto 5.it ancora un attacco contro gli arbitri con tante polemiche il Sant'Erasmo contro gli arbitri quest'anno ognuno ha il diritto di dire quello che vuole noi ovviamente cerchiamo di fare correttamente la nostra professione ci hanno chiesto perché ci hanno coinvolto pubblicamente su Facebook di pubblicarlo abbiamo fatto togliendo quelle che poi sono alcune parole lo ricordiamo anche a chi scrive su Facebook in riguardose che spesso sono soggette a querela quindi a volte le società devono anche capire di usare dei termini un po' più adeguati perché si rischia la querela per diffamazione quando si scrivono alcune cose anche su Facebook va bene Nico penso che abbiamo detto tutto quindi ci vediamo per il prossimo turno con uno dei protagonisti della Cus Caserta grazie a Nico Erbagio continuate a stare con noi continuiamo a seguire un po' qualche protagonista qui dal palzetto lo sport di casa Giove con il Cus Caserta arriva l'azione di questo campionato restate con noi c'è un segreto nel Cus che Guido Vintimiglia tiene stretto e invece l'abbiamo scoperto stasera e risponde al nome di Umberto Ruggero buonasera Umberto ciao buonasera buonasera Umberto questo signore qui con i capelli bianchi e brizzolati perché mia moglie le vuole tinta però ho sentito un accetto che non è napoletano non è napoletano perché ho vissuto fino a pochi anni fa Savona dove mi sono sposato con una caserta eccolo qua perché abbiamo siamo arrivati all'anello di congiunzione qui con terra di lavoro però Guido mi ha raccontato anche di una esperienza importante con una nazionale che risponde al nome di Zambia sì giusto spieghi cosa è successo e che cosa che cosa facevi lì così capiamo anche chi è siamo andati con lo staff tecnico siamo andati a fare a guidare la nazionale zambiana per la qualificazione della Coppa d'Africa raggiunta e quindi e questa era la notizia importante quindi grande professionalità che hai cercato di portare anche nel mondo del futsal anche con una collaborazione come ha raccontato Guido insieme a lui con con Birindelli cercando di interpretare diversamente quelli che sono i movimenti no del calcio col calcio 5 questo che può essere come abbiamo raccontato con Guido anche uno sviluppo futuro per la figura dell'allenatore è già presente comunque è stata un'ottima intuizione di Guido perché parlando mi ha detto che gli sarebbe piaciuto portare avanti un certo discorso gli ho detto guarda si può fare Alessandro che ha finito il corso di seconda a maggio stava a settembre scusami stava sta interagendo un po' col mondo del futsal poi noi abbiamo quando abbiamo lavorato in Zambia c'era anche Alessandro Birindelli come secondo allenatore e abbiamo interagito con il futsal zambiano che è guidato da due italiani è una realtà stupenda bellissima creata in Lusaka fantastica e quindi abbiamo avuto modo anche di far crescere un po' queste idee Guido ha avuto una grandissima intuizione perché è uno che lavora molto col cervello li ho presentati e poi sono andati avanti per conto loro prospettive di integrazione dei due mondi secondo te in futuro però no io dico in percentuali ci sono presenti però ancora in maniera molto molto relativa sappiamo che ad esempio Riccardo Manno è andato nello staff tecnico della Fiorentina sta accadendo qualcosa di diverso sicuramente lo abbiamo raccontato attraverso le nostre telecamere però la figura dell'allenatore nel calcio 5 può essere visto che oggi è difficile anche allenare a livello nazionale può essere un come dire un elemento quasi un allenatore in seconda in prospettiva nel calcio? Secondo me sì secondo me la categoria degli allenatori deve cercare di interagire molto di più e lo può fare perché hanno tantissime idee quelli del calcio 5 secondo me sono più aperti del calcio 11 il calcio 11 è ancora un po' frenato tant'è che Montella è riuscito nell'intento e sta avendo risultati anche ai giocatori perché senza di loro non si va da nessuna parte questo è ovvio credo di sì rispondo di sì alla tua domanda si può fare tranquillamente e spero anche nel caso della preparazione perché Guido ha detto una cosa che non è molto corretta cioè non sono io a essere la cosa in più noi abbiamo buttato giù un'idea gli ho detto Guido perché non proviamo a togliere tutto quello che riguarda l'allenamento senza il pallone facciamo tutto con la palla Barcellona è la madre di tutto questo ma i portoghesi lo fanno da tempo e anticipato scusami anche l'ultima domanda così per un attimo la sentiamo di più proprio il cambio di metodo che avete portato nel calcio 5 quindi mi fa piacere che stai sottolineando questo aspetto continuo ma sta facendo tutto Guido io gli ho detto guarda che secondo me si può fare così perché noi intendiamo l'uomo come un'unità psicofisica e quindi qualsiasi cosa tu fai la fai dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale dal punto di vista tattico mettila in pratica e lui l'ha messo in pratica e sta avendo i suoi risultati guarda ti racconto un adeduto noi l'ultimo anno come staff abbiamo fatto la dinamo bucarest in fase di preparazione eravamo a 10 chilometri distanza dal club che sicuramente se senti il calcio sai cos'è guidati da un allenatore rumeno che però all'interno della squadra aveva un giocatore italiano amico di alessandro birindelli e ci hanno seguito ci hanno spiato durante la preparazione noi facciamo questa roba qua scusa il termine molto assoluto e loro loro si sono messi a ridere hanno detto guarda noi avevamo vinto la coppa la coppa rumena allora vinto il campionato ci siamo incontrati per la super super coppa e loro hanno riso perché non facevamo le distanze lunghe non andavamo su sui pendi eccetera eccetera dominati penso che penso che va bene così sei stato ma dominati perché i calciatori sono bravi non perché è ovvio hanno retto ma soprattutto hanno hanno giocato nel corso dominati però mi è fatto piacere che questa chiacchiera con te perché davvero abbiamo aperto anche un mondo è una parentesi diversa di cui spesso non si parla nel mondo del futza grazie umberto vi faccio complimenti perché io vi seguo perché grazie ai ragazzi che mi mancano il link io poi vengo su punto 5 vi vedo siete forti grazie anche il portale è veramente forte mi piace ci fa piacere ci fa più i complimenti fanno sempre piacere grazie umberto ancora spogliatoio del cus microfono a daniele ventimiglia vai quanto siamo scesi in basso quanto siamo scesi in basso allora un saluto generale come lo diciamo alla nostra maniera ciao allora questo è il primo acquisto non voluto dalla società qualcosa da dichiarare perfetto lei in condizioni pietose lei sta col seggione lui ha smesso anche lui col codino un saluto a tutti io sto io sto sotto un treno siamo una banda siamo una banda e mo che devo fa a c'è Piero c'è Piero c'è Piero c'è Piero Piero parlaci di questo inizio di stagione è un inizio di stagione molto positivo non ci aspetto è una banda che ha saputo suonare una buona musica una cosa che possiamo confermare le telecamere di punto 5 che il nostro allenatore ci ha fatto una promessa che se avessimo fatto 9 punti in queste ultime tre partite si sarebbe suonerato da solo quindi 12 12 quindi quindi invitiamo questo è un video messaggio gli allenatori che sono liberi in questa sessione di mercato che si possono svincolare perché stiamo in cerca di allenatore grazie presentati allora sono Palumbo Mario capitano del Cusso Casano applauso ti tocca prossimo turno partiamo da Cicciano contro Napoli Arpino uno fisso uno fisso vai poi Pomigliano Scafati due fisso poi Solofra al Masareno due ancora Maleventum maleventum Sparta sarebbe Marigliano vai uno con Endicap questa è bella Miseno Bita Santerasmo X poi Elboli Avellino uno Caivanese Trilem due basta così c'è anche la vostra notia vai Parete Caserta il parete ti dico uno del parete perché ogni volta che ci hanno portato sfavoriti fino adesso abbiamo sempre vinto o pareggiato una volta favoriti e abbiamo perso forza parete forza parete va bene in questo clima sicuramente di grande cogliardia va bene ringraziamo i ragazzi del Cus sicuramente sarà una bellissima sfida perché parete a un pubblico bellissimo molto caldo Cus Caserta ha fatto grandi partite fino adesso e sarà davvero una grande sfida di Calcio 5 grazie a tutti gli amici del Calcio 5 e del Cus Caserta lasciatevi ringraziare anche Michele Pinto che è responsabile del Cus Caserta davvero un grande applauso il presidente per la sua collaborazione quest'anno alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.